Il 1992 sarà ricordato dagli storici che studieranno l'Italia come l'anno terribile. E' stato un anno terribile quello. E io mi sono ritrovato in quel periodo ai vertici della masoneria. Non c'è soltanto infiltrazione dell'antrancata nelle locce. L'antrancata controlla le locce. Lei sapeva che quello che c'era nella masoneria calabrese c'era anche nella masoneria siciliana. Perché lì c'è una concentrazione della mafia totale. Questo non ha mai detto nessuno. Perché ogni volta che si parla di misteri e di stragi in Italia ci sono mafia, servizi segreti e massoneria? Cos'è la massoneria? Anzi, cosa è diventata la massoneria italiana? Giuliano Di Bernardo è stato al vertice dell'organismo massonico più importante, il Grand Oriente d'Italia, nei terribili anni che vanno dal 1990 al 1993. Gli anni delle spinte autonomistiche, del tentativo di colpo di Stato attuato con la strategia terroristica di mafia e andrangheta. Senta, si è massoni per tutta la vita? Sì, non si nasce massone, si diventa massone con l'iniziazione. La massoneria nella sua definizione è segretezza e non cospirazione. La cospirazione può essere una conseguenza della segretezza. Con questo criterio nasce la loggia P2. La loggia P2 non è stata inventata da Gelli, ma risale alla seconda metà dell'Ottocento, in cui il Gran Maestro, per dare una certa riservatezza a personaggi che erano i vertici del governo, delle banche, i militari di altissimo livello, poeti come Carducci e Pascole, cioè si disse evitiamo che questi personaggi svolgono la loro attività massonica nelle loggia, almeno per evitare un fastidio. Giuliano Di Bernardo è uno dei testimoni dei magistrati di Reggio Calabria titolari dell'inchiesta sull'andrangheta stragista. Per la prima volta svela una serie di retroscena di quei terribili anni. Spiega che nonostante il divieto dopo la legge Spadolini-Anselmi e dopo lo scandalo della P2 di Licio Gelli, in realtà sono state costituite loggie coperte nel Grande Oriente d'Italia. Lei quando diventa Gran Maestro, neanche una settimana di tempo si presenta da lei un massone romano? L'avvocato è Virgilio Gaita. Questo non l'ha mai detto a nessuno. E mi dice, ecco, noi abbiamo la certezza, ma non siamo riusciti a documentarlo, che Armando Corona ha costituito loggie coperte che sono alla sua obbedienza. Armando Corona era stato Gran Maestro? Era stato Gran Maestro prima di me per cinque anni. E quindi dopo lo scandalo P2, dove poi si decise che non potevano esserci, lui diventa Gran Maestro? Diventa Gran Maestro. E le dicono, guarda che nonostante la legge, nonostante il divieto, ci sono loggie coperte. Ci sono loggie coperte, costituite da Armando Corona. Mi fanno notare la gravità della situazione e mi chiedono, mi supplicano di fare tutte le intagini, visto che sono il Gran Maestro e posso andare a vedere dappertutto. Lei le fa? Io le faccio. Il mio segretario personale, Luigi Savina, mi informa che un massone calabrese aveva urgente bisogno di parlarmi, ma in maniera del tutto riservata. Me lo ricordo come se fosse oggi. Si presenta e mi dice, Gran Maestro, ho lasciato la loggia coperta di Armando Corona perché voglio entrare nella vostra loggia coperta. Io che cosa ho fatto? A quel punto ho giocato ad astuzia, gli ho detto, sì, io posso fare quello che mi chiedi, però tu mi devi fare una richiesta scritta. Mi devi mettere per iscritto dove stavi prima, dove vuoi venire adesso, eccetera eccetera. Lui mi fa questa lettera, ci aggiunge una fotografia accanto ad Armando Corona. Ecco la prova che mi era stata detta di cercare. Io questa documentazione l'ho data a Cordova. Cordova è il magistrato di Palmi in quel momento, quindi Calabria. Calabria. Prende gli elenchi della massoneria. Ricordo quella mattina che il gran segretario Alfredo Diomede viene da me e mi dice il procuratore di Palmi chiede l'elenco dei calabresi perché ritiene che molti massoni siano coinvolti in reati e crimini. Quindi vuole vedere fino a che punto la massoneria sia da sostegno a questo tipo di attività. Io dissi, beh, se questa è l'intenzione del procuratore Cordova, diamo gli elenchi. Dopo qualche tempo Cordova manda alcuni sostituti e carabinieri a Villa Il Vascello a Roma, la sede del Gran Oriente d'Italia, con un mandato di perquisizione di sequestro. Cominciano ad esserci incontri segretissimi tra me e Cordova. Ricordo, ricordo, il primo momento in cui mi sono trovato di fronte a Cordova. Un certo momento così, all'improvviso, mi dice Professore, ma lei lo sa di essere un fiore su una palude? E io gli dico, come si permette di definire la mia massoneria una palude? Lui sempre tranquillo. Mi dice, guardi lì, c'era un pacco così di fogli protocolli. Cioè? Quanti fogli protocolli possono fare? Migliaia. Mi disse, ne prenda qualcuno a caso e legga. Comincio a leggere e i capelli mi si drizzano. Ho trovato una guerra fratricida tra massoni calabresi che cercavano di dare vantaggio alle loro posizioni, denunciando alla procura di Palme. Come conseguenza ho convocato la giunta del Gran Oriente d'Italia. La giunta è l'organo di governo. E ho voluto che vi partecipassero tutti i vertici calabresi. Guardando Ettore Luizzo negli occhi, gli ho fatto la domanda. Tu adesso mi dici esattamente qual è la situazione delle logge calabresi. Ettore Luizzo dichiara che non c'è soltanto infiltrazione dell'antrancata nelle logge, ma che addirittura l'antrancata controlla le logge. E qui, e io dico, ma in Calabria allora c'erano 32 logge. Quante di queste logge, secondo te, sono infiltrate e controllate dall'antrancata? Beh, la sua risposta è stata 28. Se non l'avete potuto evitare prima, adesso, adesso cosa pensate di fare? Ecco la sua risposta. Niente. Perché se facessimo qualcosa metteremo a rischio la nostra vita e quella dei nostri famigliari. In quel preciso istante io ho deciso di dimettermi dal Grato Oriente d'Italia. Lei sapeva che quello che c'era nella massoneria calabrese c'era anche nella massoneria siciliana? Cioè con i mafiosi che stavano? Io avevo saputo più dei siciliani che dei calabresi. E che segnali aveva avuto? Dopo la mia elezione è tradizione che il maestro va in visita ufficiale alle regioni. Il numero uno della Sicilia, che era l'avvocato Massimo Maggiore, lui mi disse Gran maestro, vi raccomando, se il presidente del collegio circoscrizionale la invita nelle sue logge, non ci andate, non ci andate, perché lì c'è una concentrazione della mafia totale. Io mi sono recato subito a Londra e ai vertici inclesi ho detto questa è la situazione del Grato Oriente d'Italia e mi dicono tutto ciò che tu ci stai dicendo, noi lo sappiamo già, la nostra ambasciata, i servizi ci hanno informato di tutto quello che tu stai dicendo. Io ho detto bene e adesso che cosa devo fare? Ti dimetti dal Grato Oriente? Crei una nuova masoneria, toglieremo il riconoscimento del Grato Oriente, la daremo alla tua masoneria e sarà la tua masoneria a rappresentarci in Italia. Però lei va via pure dalla gran loggia regolare. Certo, perché cominciano ad entrare persone che sarebbero dovuto restare fuori, si cominciano a creare, cioè a poco a poco si stava ricostituendo la stessa situazione del Grato Oriente d'Italia. L'impianto accusatorio di oggi è che in quegli anni non erano solo mafia andrangheta ma erano servizi segreti, deviati o comunque parte dei servizi segreti, è masoneria. E questo è l'impianto e dentro c'è la masoneria. E c'è la masoneria. E c'è. E c'è. La masoneria. Ci stava la masoneria in questo progetto. Ci stava come? Lei no, la masoneria. Ma la masoneria, ecco. Allora, se vogliamo trovare un caso. Le leghe meridionali. Le leghe meridionali andavano avanti e c'erano masoni che lo sostenevano. C'erano i masoni all'interno. Poi nasce Forza Italia, ma in quegli anni c'era un progetto diciamo di… Nel nord, nel sud, questi movimenti di autonomia esistevano e masoni vi erano dentro. Vi erano dentro. Questo ormai era stato chiaramente accertato. Questo l'aveva capito anche Cordova nelle sue inchieste. Ma lei l'aveva capito? Io questo l'ho capito dopo. Però in realtà nel 92-94 la P2 era già nota. L'abitudine a operare con logge coperte come la P2 non finisce con l'approvazione della legge Spadolini-Anselmi, ma continua. E, come ho detto prima, il gran maestro Armando Corona aveva costituito una di queste logge coperte segrete. Che convenienza hanno politici e mafiosi a iscriversi nella masoneria? La masoneria e l'antrancheta sono due organizzazioni che hanno alcuni aspetti in comune. Cioè la procedura, la modalità di iniziazione. Cioè, voglio dire, in Calabria l'antrancheta entra in tutte le masonerie. Però in concreto continuano ad avere questi incontri proprio per poter realizzare i progetti. Purtroppo i progetti non sono più quelli dell'etica, i principi etici universali, ma sono quelli delle organizzazioni criminali che nascono e si realizzano in quelle particolari condizioni di spazio e di tempo. Lei ha lasciato la masoneria. Proprio per tutte queste ragioni io ho lasciato la masoneria. Perché non volevo più essere complice di una realtà che nulla aveva a che fare con la visione ideale che io ho sempre avuto della masoneria.